buongiorno a tutti anzi buonasera però dico buongiorno perché tanto questo video lo vedrete nella mattinata di venerdì allora ora vi racconto una storia non di un gruppo di eroi senza gloria come cantava un cantante tanti anni fa ma la storia di un insegnante delle elementari quindi è una storia datata più di 40 anni fa oramai però mi piaceva ve la voglio raccontare quindi partiamo mentre se ne stava davanti alla sua classe di quinta elementare il primo giorno di scuola la maestra disse ai bambini una falsità come la maggior parte degli insegnanti guardò i suoi studenti e disse che lei li amava tutti allo stesso modo tuttavia ciò era impossibile perché lì in prima fila accasciato sulla sedia c'era un ragazzino di nome teddy stoddard la signora thompson aveva osservato teddy l'anno precedente aveva notato che non giocava serenamente con gli altri bambini i suoi vestiti erano disordinati e spesso avrebbe avuto bisogno di farsi un bagno inoltre teddy era scontroso e solitario arrivò il momento in cui la signora thompson avrebbe dovuto evidenziare in negativo il rendimento scolastico di teddy prima però volle consultare i risultati che ogni bambino aveva raggiunto negli anni precedenti per ultimo esaminò la situazione di teddy tuttavia quando vide il suo fascicolo rimase sorpresa in prima elementare il maestro di teddy aveva scritto teddy è un bambino brillante con una risata pronta fa il suo lavoro in modo ordinato e a buone maniere il suo insegnante in seconda elementare aveva scritto teddy è uno studente eccellente ben voluto dai suoi compagni di classe ma è tormentato perché sua madre ha una malattia terminale e la vita in casa deve essere una lotta il suo insegnante di terza elementare aveva scritto la morte di sua madre è stata dura per lui e tenta di fare del suo meglio ma suo padre non mostra molto interesse e se non verranno presi i giusti provvedimenti il suo contesto familiare presto lo influenzerà infine l'insegnante del quarto anno aveva scritto teddy si è rinchiuso in se stessa e non mostra più interesse per la scuola dona amici e qualche volta dorme in classe a questo punto la signora thompson si rese conto del problema e si vergognò di se stessa si sentì anche peggio quando i suoi studenti le portarono i regali di natale avvolti in bellissimi nastri e carta brillante fatta eccezione per teddy il suo dono era stato maldestramente avvolto nella pesante carta marrone di un sacchetto di generi alimentari la signora thompson però aprire il regalo prima degli altri alcuni bambini cominciarono a ridere quando videro un braccialetto di strass con alcune pietre mancanti e una bottiglietta di profumo piena per un quarto ma lei soffocò le risate dei bambini esclamando quanto fosse grazioso il braccialetto e mettendo un po di profumo sul polso quel giorno teddy stodda rimase dopo la scuola giusto il tempo di dire signora thompson oggi profumava come la mia mamma quando usava proprio quel profumo dopo che i bambini se ne furono andati la signora thompson pianse per almeno un'ora da quel giorno si dedicò veramente ai bambini e non solo per insegnare loro le sue materie prestò particolare attenzione a teddy e con la sua vicinanza la mente del piccolo iniziò a rianimarsi più lei lo incoraggiava più velocemente teddy rispondeva alla fine dell'anno teddy era diventato uno dei bambini più intelligenti della classe e nonostante la sua bugia che avrebbe amato tutti i bambini in un ugual modo la maestra si accorse che teddy divenne uno dei suoi preferiti un anno dopo la fine della scuola la signora thompson trovò un biglietto sotto la porta era da parte di teddy la lettera diceva che era stata la migliore insegnante che avesse mai avuto in vita sua passarono sei anni prima che ricevesse un altro messaggio da teddy terminato il liceo terzo nella sua classe riferiva che la signora thompson era ancora la migliore insegnante che avesse mai avuto in vita sua quattro anni dopo ricevette un'altra lettera dicendo che quando le cose erano difficili a volte era rimasta a scuola si era impegnato al massimo e ora si sarebbe presto laureato al college con il massimo degli onori confermava che la signora thompson era sempre la migliore insegnante che avesse mai conosciuto in tutta la sua vita la sua preferita passarono altri anni arrivò ancora un'altra lettera questa volta spiegava che dopo aver ottenuto la laurea aveva deciso di andare avanti la lettera spiegava che lei era ancora la migliore la migliore e preferita insegnante che avesse mai avuto ma ora la sua firma era un po più lunga la lettera riportava in bella grafia dottor theodore f stoddard ma la storia non finisce qui arrivò ancora un'altra lettera quella primavera teddy scrittese che aveva incontrato una ragazza e stava per sposarsi spiegò che suo padre era morto un paio d'anni prima e chiesa la signora thompson di accompagnarlo al matrimonio facendo le veci della madre dello sposo naturalmente la signora thompson accettò e indovinate un po che fece indossò proprio quel braccialetto che con gli strass mancanti quello che teddy le aveva regalato fece anche in modo di mettere il profumo che la madre di teddy indossava l'ultimo natale che passarono insieme si abbracciarono il dottor stoddard sussurrò all'orecchio della signora thompson grazie signora thompson per aver creduto in me grazie mille per avermi fatto sentire importante per avermi mostrato che avrei potuto fare la differenza la signora thompson con le lacrime agli occhi sussurrò teddy ti stai sbagliando sei tu quello che mi ha insegnato che potevo fare la differenza non sapevo come insegnare fino a quando ti ho incontrato scritto nel 1976 per la rivista home life da elisabeth silence barla detto questo fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia che è appunto vera detto questo io vi saluto vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao